Ma la cosa più importante, signor Valeri, è che voi cerchiate di accettare quello che è successo. Questi bambini sono normali. I genitori li conoscono, i loro figli. Lo sanno che cosa sentono. E i colori come sono? Sono belli. Il blu è come quando vai in bicicletta e il vento ti dispiace che hai in faccia. Ti insegno un segreto che ho visto quando i grandi musicisti suonano. Lo chiudo i miei occhi per sentire la musica più intensamente. Hai sentito? E cosa sarebbe? Il vento, no? Anche toccando il viso di una persona si può capire se è bella o brutta. Posso sentire anche la voce. La libertà è un lusso che noi, ciechi, non ci possiamo permettere. E togliamo la cosa più bella che in questi anni si portano dentro. I loro sogni. Ah! Agenda! Agenda! Grazie a tutti.